Ad ottobre il gruppo di lettura Achille Marazza ha letto e discusso il romanzo di Margherie di Ursenar, l'opera al nero, pubblicato nel 1968 da Gaimard in Francia e in Italia da Feltrinelli nel 69, diffuso poi nel mondo in una ventina di traduzioni. Perché leggerlo oggi a 50 anni di distanza? Perché è una scrittura potente, precisa, limata e quindi è un gran piacere leggere. Perché c'è un grande sentimento panico della natura, oggi quanto mai necessario? Perché le situazioni in cui si viene a trovare il protagonista Zenone sono purtroppo riconoscibili nei nostri giorni, anche se forse in forme più sofisticate. Insomma perché offre innumerevoli occasioni di riflessione espresse con una scrittura che non dà spazio a momenti di noia. In breve di che cosa si tratta? Monaco scienziato avventuriero e il protagonista Zenone è un fiammingo che vive nel secolo XVI tra guerre di religione, persecuzioni e torture. È medico e alchimista. È quindi curioso di tutti i misteri della natura. È teologo e pensatore e quindi aperto ai problemi dello spirito. Essere di pura razionalità vive in modo spoglio e sregolato, tutto teso a realizzare la propria essenza attraverso un'esistenza ricca di esperienze, spregiudicata e altera. Fino a che incappa nelle maglie di una giustizia basata su leggi brutali, dettate da cieco fanatismo. In gioventù Zenone crede profondamente nell'uomo, perfino con una certa arroganza quando decide di partire da Bruges, sua città natale, per iniziare la sua vita errante. Io professo la mia fede in un Dio che non è nato da una vergine. Non risusciterà il terzo giorno, ma il cui regno è di questo mondo. Avete capito? Pagina 49 del libro. Inizia così il suo girovagare in Europa e in Oriente indagando, studiando ed sperimentando i saperi del suo tempo. Subentra poi sulla condizione umana un certo scetticismo. Afferma Zenone, so che questo corpo sbaglia, erra, che spesso equivoca le lezioni che gli impartisce il mondo, ma so anche che ha in sé di che scoprire e talvolta rettificare i propri errori. So che non so quel che non so. Morirò un po' meno sciocco di quanto sono nato. Di fronte allo spettacolo delle follie e dei furore che ovunque dilagano nei nostri regni cristiani, Zenone perde fiducia nella condizione umana. I suoi scritti e le sue scoperte sono in odore di eresia. Ritorna a Bruges per nascondersi, per farsi dimenticare dopo tanti anni di vita errante. Cambia nome, diventa completamente invisibile. Stanco e disilluso prova a cancellare da sé il suo passato, i momenti vissuti, le passioni provate, svolgendo il mestiere senza gloria né profitto di medico dei poveri. Questo abbandono del suo stile di vita diventa una ricerca dell'essere. Quando all'inizio del romanzo Zenone ventenne trova sulla sua strada il cugino e amico Henri Maximilien, che gli rivela il senso del suo errare, per me si tratta di diventare uomo, lui gli risponde, per me si tratta di diventare più che un uomo. E aggiunge, un altro mi attende altrove. Chi? Ig Zeno, disse, me stesso. Così ha inizio l'opera al nero, quel momento alchemico di purificazione del metallo operato dal fuoco da tutte le sue impurità solide e gassose. Sul piano spirituale è l'atto di gettar via nozioni, idee, certezze e dare inizio ad un processo metafisico di annientamento, di stacco e sublimazione. Momento quindi di forti contrasti, slanci e ritorni nel vissuto del protagonista tutto teso da realizzare la propria essenza, fino a che, di fronte al fanatismo degli inquisitori, proclama la sua libertà anteponendo il suicidio al rogo. Grazie a tutti.